God save the wine, siamo al Vinitaly, anzi al dopo Vinitaly, perché ci rilassiamo dopo una giornata in fiera e ci rilassiamo però sempre come si sa fare noi, cioè bevendo vino, del buon cibo, formaggi, salumi Alessandra, ma il God save the wine, il Chianti Classico è sempre stato di casa come mai secondo te si sposa questa idea di questa nostra piccola festa? Beh, sicuramente il Chianti Classico è un vino molto fresco, molto fruttato, comunque ha anche una bella struttura per cui cosa meglio di un bel Chianti Classico con un bel pecorino oppure i salumi di Cinta Senese noi siamo molto orgogliosi di essere qui a rappresentare la nostra terra di Siena, God save the wine, a Verona ma soprattutto nel mondo perché il Vinitaly è una vetrina mondiale Invece c'è questa novità che è stata lanciata da pochissimo, è stata una bella festa anche qui di avere una gran selezione, raccontaci come è nata, perché per ogni azienda è un percorso diverso la vostra gran selezione Beh, dunque la nostra gran selezione che potete vedere è la particella 89 secondo me è proprio un po' l'emblema di quello che è la selezione nel Chianti Classico ovvero noi abbiamo selezionato nella particella 89 io dico che il vino deve avere un nome e un cognome il nome gli viene dato dal territorio, dal microclima, dall'esposizione, quindi dal territorio il cognome gli lo dà un po' il proprietario, cioè l'interpretazione che riusciamo a darne La nostra gran selezione che viene prodotta a 450 metri sul livello del mare nel cuore del Chianti Classico dove c'è molto galestro ed alberese è un vino che ha una piacevolissima beva pur avendo una struttura molto importante considerando che ha questa bella acidità che dà molta freschezza al vino 100% sangiovese, noi crediamo tantissimo nel sangiovese come espressione del nostro territorio produciamo soltanto 5.000 bottiglie, tutte uve selezionate a mano quindi una gran selezione e una gran fatica una gran fatica, tanta fassione